PASTORATORI PESANTI in versione pellet e in versione normale servono a portare pastura sul fondo e naturalmente a richiamare una grande quantità di pesce. Io ve lo consiglio per la pesca in Po, in Adda, in fiumi dove ci sono grandissimi pesci che mangiano in una maniera molto vorace e di conseguenza la nostra pastura non è mai sufficiente. Queste due versioni qui, la versione open-end classica, naturalmente fori laterali per idratazione della pastura e naturalmente le due bocche fronte e retro aperte per caricare di pastura e nostre esche. Piombo molto piatto in maniera da poter fare un'aderenza perfetta con il nostro fondo viene già fornito con un anellino e una grandissima rolling che ci consentirà di evitare delle torsioni spiacevoli in fase di recupero. Mentre nella versione pellet feeder vedete che è fatto tutto in gabbia compreso la parte frontale per cui qui potremmo mettere dentro dei begatini sfusi della nostra pastura o addirittura anche dei pellet comprimendoli in maniera molto forte. Questo naturalmente, dove c'è una corrente leggermente inferiore è consigliabile utilizzare questo. Con correnti molto forti, l'open-end classico è sicuramente la versione più utilizzata. Ayrtec Specialist Open-End Prodotto in un'unica misura da grammature da 28 a 112 grammi Provateli e mi direte!